E' importante di rispettare gli impegni che abbiamo preso a luglio, quindi oggi partiremo per l'inizio delle scuole con una flotta tutta nuova, con tre autobus nuovi, giovani, quindi che sono un investimento di 400.000 euro, per noi è importante di avere sempre un parco, ripeto, giovane e quindi spero adesso che riusciremo a fare questo, crescere questo servizio che è abbastanza importante.